Il tempo non ha dato tregua nemmeno la notte scorsa, aumentando considerevolmente i danni in località Carignan, dove Filippo Ciavarini, titolare dell'omonimo ristorante, è finito per la sesta volta in pochi mesi letteralmente sott'acqua. Sono anni che Filippo Ciavarini denuncia il mancato intervento di aiuti per prevenire una catastrofe in parte annunciata. Da quanto tempo non succedeva una cosa di questo genere? Noi come legamenti siamo abbastanza frequenti negli ultimi vent'anni, però così grosso era veramente tanto che non succedeva, una trentina d'anni penso, 25 anni. Non siete riusciti a prevenirla questa situazione? Noi abbiamo cercato negli anni, perché siamo qui da 350 anni, quindi non è proprio un giorno che abbiamo questo molino, abbiamo cercato sempre di tamponare le situazioni con barriere, con sistemazione idraulica, ma non c'è nulla da fare. Il torrente è per carattere suo, per definizione, pieno d'inverno e chiaramente in asciutta d'estate. Quando arriva, arriva. L'unico problema è che arriva un pochino troppo frequentemente, e tutto deriva dalla pochissima manutenzione che hanno degli albi fiuviali, che hanno avuto degli albi fiuviali. Da qui a Fano ci sono circa 12 o 13 dighe di 4 metri di larghezza. È ovvio che prima o poi esondi, è una cosa normale. 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, i contadini tenevano manutenuti i corsi dei fiumi antistanti della loro abitazione, ed erano perfetti, c'era l'erbetta e il fiume scorreva senza problemi. Inondazioni ce n'erano, ma c'erano esondazioni ogni 15-20 anni, una cosa del genere, queste da memorie storiche della nonna. Quindi è difficile molto tamponare quello che dovrebbe essere un dato di fatto, cioè il fatto di pulire gli albi fiuviali. Dovrebbe essere tutti puliti, ma non sto parlando solo dell'arzilla, sto parlando di tutti gli albi fiuviali, non sono manutenuti. Ragazzi, è normale che le dighe sono fatte apposta per questo, i castori lo fanno apposta, ma noi purtroppo ne subiamo le conseguenze molto gravi da come si vede purtroppo. Le immagini sono davvero desolanti e molto preoccupanti per questa attività commerciale, con lo spazio esterno allagato da un metro e mezzo d'acqua e fango, per non parlare delle cucine devastate e allagate. L'entità del danno qual è? Mi credi se ancora non riusciamo a capirlo? Perché non siamo riusciti ad entrare dentro nelle cucine, è un disastro. La forza dell'acqua ha sollevato tutti gli strumenti tecnologici che abbiamo noi cuochi, quindi dal forno alle celle di frigorifere, frigitrici, fuochi, tutto, le ha alzate e le ha ribaltate. Quindi non sappiamo esattamente se si può recuperare qualche cosa oppure se si può mettere a posto. Ecco, non lo sappiamo ancora, ma è un disastro perché noi in cucina abbiamo avuto più di un metro e mezzo d'acqua. Un metro e mezzo d'acqua, considerate che l'altezza normale di tutti i piani di lavoro è 90 centimetri, quindi è andata sopra di 60 centimetri, ha inondato tutto. Pensate alle cose che hanno schede elettroniche, che hanno parti elettriche. Siamo così, siamo adesso. Non meno importante è la situazione dei cavi elettrici e telefonici, sopra i quali sono caduti tronche e sterpaglie a danno delle zone limitrofe. Nessuno fa nulla per mantenere in sicurezza nei cavi della luce, nei cavi telecom, quelli del telefono per intenderci. C'è un palo elettrico con un cavo che fornisce più o meno 20 abitazioni a livello di servizio telefonico e ci sono due alberi appoggiati, ma non perché questi alberi siano caduti così, perché erano semplicemente secchi dentro l'albio. Siccome nessuno taglia la legna, nessuno tira via queste pericolosità, perché alla fine sono alberi pericolosi. Insomma, se ti casca una testa, un albero a 16 metri, insomma, la senti. Si sono fortunatamente appoggiati al palo del telefono. Ma questo sa significare che nessuno, e dico nessuno, cerca di mantenere in ordine e in efficienza l'albio fluviale. Non gliene frega niente nessuno, purtroppo. Quando penserete di tornare operativi con il locale? Allora, una bella domanda, grazie. Speriamo di farcela prima possibile. Diciamo, io spero che in un paio di settimane di riuscire ad essere in piedi. Grazie, non tanto alla mia forza, io da solo non faccio niente, tutti i miei nostri collaboratori e tutti gli amici che ci danno una mano. Quindi grazie a tutti ancora una volta. So di, spesso e volentieri, non ringraziare a sufficienza, quindi lo faccio adesso pubblicamente. Grazie a tutti.